240.000 fuochi d'artificio per un peso complessivo di quasi 740 kg e un valore commerciale di 2.200.000 euro è quanto ha sequestrato la Guardia di Finanza di Prato al termine di un controllo nei negozi che vendono questo tipo di articoli. Due i commercianti denunciati, tre in particolare i punti vendita che seppur privi dei requisiti previsti dalla legge per lo stoccaggio di quantitativi superiori a 50 kg di materiale esplosivo, sono risultati destinatari di grosse partite di botti. A loro i finanzieri sono arrivati dopo aver incrociato le spedizioni fatte dai principali produttori e distributori commerciali di articoli pirotecnici. È risultato così che tre carichi erano arrivati a Prato. I controlli hanno permesso di appurare che i tre negozi detenevano materiale pirotecnico in assenza dell'autorizzazione di pubblica sicurezza e che gli articoli erano posti in vendita accanto a materiale infiammabile e in prossimità di impianti elettrici, senza che vi fossero protezioni a impedire che potessero venire maneggiati dai clienti. Proseguiranno ancora le verifiche sulla vendita di materiale pirotecnico, anche in risposta alle richieste che arrivano dagli esercenti che rispettano le regole e che vengono danneggiati dal commercio illegale, abusivo o non conforme alle norme in vigore.